Grazie. Dimmi se a Ollie serve qualcosa. A parte qualche graffio, l'aereo sembra a posto. Molto bene. Charlie? Cosa? Novità sulla nave dirottata? Ci sto lavorando. L'attacco si chiama benzina americana. Una petroliera piena è un'arma devastante. Che cazzo è successo? Non guardare me. Green? L'IMS non risponde. Sono chiuso fuori. Charlie? Faccio del mio meglio. Briggs, hai qualcosa? Niente. Ho solo luce e comunicazioni interne. Cabina di pilotaggio, perdiamo potenza. Per quanto possiamo planare? Si parla di minuti. Sistemi di navigazione andati, restano i comandi manuali. Controlliamo il pannello posteriore. Mi serve più tempo. Non so nemmeno come abbiano preso il controllo dell'aereo. Merda, rispondimi, amico. Cabina di pilotaggio, che succede? Qui è il copilota, serve un medico. Che succede? Il capitano ha urtato la testa nella turbolenza. È grave, non è cosciente. Ripeto, pilota privo di sensi. L'aereo è sotto controllo. Merda! I motori sono andati. Provo a riavviarli. Non posso. Non ho accesso ai comandi. Ma riesci a volare? Sì. Cioè, no. Posso pilotare manualmente e provare a planare, ma... Mi serve un altro pilota. Ci vogliono due persone per gestire i comandi. Briggs, controlla il pilota. Dove vai? A prendere Comin. Attiva il backup, Kyle. Riprovo l'accesso remoto. Estrai il drive dall'IMS e il cancello. Forza, Charlie. Fammi indovinare. Siamo nella merda e sono l'unico che può tirarci fuori. Giusto? Il pilota ha perso i sensi. Marta! Che è successo al copilota? Usa i comandi manuali. Vado io. Servono due persone. Disattiva tutto. Stacca il generatore e riavvia il sistema. Devo andare in cabina di pilotaggio. Fammi uscire. Fisher, fammi uscire. Penserò al generatore. Già che ci vai, molla un po' di carico. Prenderemo tempo. Briggs, mi serve a poppa. Dobbiamo mollare un po' di carico. È in fretta. Mi muovo. Lascio un messaggio sulla scatola nera in caso non ce la facessi. Sono Anna Grimis. Sam, ho aperto il portellone. Il centro di comando è il Paragent. Se ascoltate questo messaggio, contattatevi qui o più vicino con il governo del caso. Non vorremmo. Non vorremmo. Non vorremmo. Dobbiamo perdere peso. Sgancia l'elicottero. Stiamo entrando in una turbolenza. Allacciate le cinture. Non posso! Merda! Briggs, fammi luce! Libero spalante. Riesce a colpirlo da lassù? Beh, lo scopriremo! Ci sei quasi, Sam! Giura un po'. Sam, se ti lanci verso l'argano dovresti riuscire a vedere. Sei in posizione? Posso sparare. Un attimo. Ora manca solo l'altro. Ok, Fisher, senti qui. Devi staccare l'alimentazione così posso riavviare il sistema. Fallo subito! Il pannello per il riavvio è sotto l'IMS, sotto il pavimento. Lo sportello del quadro elettrico è lì! Gobbins! Generatore off-light! Ok, ok. Ora porta le chiappe nell'abitacolo. Devo entrare in picchiata e non voglio vederti volare via in un colpo. Arrivo! Sam, presto! Sam, stiamo perdendo quota. Presto! Quanto cazzo ti ci vuole? Qual è il problema? Vuole reinstallare l'intero sistema in volo. Avrei già finito se questo coglione si fosse spostato. Distruggerà l'aereo. Che cazzo credi che stia per succedere? Lascialo fare. È attivo. Bene. Ok, Fischer. Devi pompare benzina nei motori, chiaro? Se quest'affare torna online avremo pochi secondi per riavviarli. I comandi manuali della pompa sono lì. Allora, appena riavvio, tira forte. Ok? Non possiamo sbagliare. Tre, due, uno, vai! Forza, forza, forza! Forza, forza! Dai, stronzo, tira, 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 tira! Qual è la situazione? I sistemi di bordo funzionano. Stiamo volando, ma vogliamo alla cieca. Grim, le comunicazioni interne funzionano, ma i sistemi esterni no. Che cazzo è successo? Ci ha colpiti un virus come lo Staxnet. Ho riavviato gli IMS e ho ripulito tutto il sistema. Siamo a posto. Come hanno fatto gli ingegneri a infettarci? Analizzeremo tutto per capirlo. No, merda! Che c'è ora? Un comunicato che abbiamo ricevuto prima del blackout. La Casa Bianca ha attivato la continuità di governo. Che significa? Che tutte le alte sfere del governo e dell'esercito sono state trasferite in un bunker dove possano sopravvivere. come durante l'11 settembre. Mio Dio. Pensi che l'ultimo attacco Blacklist... Non lo sappiamo ancora, Charlie. Concentrati e ripristina le comunicazioni.